Dicevano che fosse tornato singolo e invece si è già aperto a un nuovo amore, l'ex Bippone si mostra in video con una donna per lui molto speciale Finito l'amore, chissà se definitivamente, l'ex Bippone sembra aver già trovato una referente con cui consolarsi, una partner molto speciale, che di certo saprà offrirgli tutto l'affetto di cui necessita e che saprà anche guidarlo in questo momento un po' confuso della sua vita Il video postato su social dal personaggio reso noto dal grande fratello Vipe è molto chiacchierato per i suoi tira e molla con l'ex compagna I due si erano conosciuti e innamorati proprio nel reality. Era l'edizione 2021 del grande fratello Negli ultimi giorni si raccontava che lui fosse molto arrabbiato e deluso, dopo l'ennesima rottura, e soprattutto che non avesse ancora digerito il modo in cui lei ha voluto comunicare al mondo la fine della storia Chi sono i protagonisti di questi drammi sentimentali? Lei è Sofico Degoni, influencer, modella e imprenditrice, classe 2000, passata per Uomini e Donne del 2020, il grande fratello Vipe 6 e poi avanti un altro, dove si è occupata di svolgere il ruolo di Bonas Lui, invece, è Alessandro Basciano, influencer e DJ, pure lui con esperienze a Uomini e Donne, al GF Vipe e a Temptation Island La notizia della fine del rapporto fra Sofì e Alessandro è arrivata, non proprio come un fulmine a ciel sereno, da un post pubblicato dalla ex Bonas Il lungo messaggio su Instagram pubblicato da Sofì lascia intendere che la relazione sia giunta al termine a causa di gravi avvenimenti E così Sofì ha decidere di mollare il padre di sua figlia Sofì Blu, nata solo pochi mesi fa L'ex Vipone non è più single? Il video con un'altra donna dopo la rottura con Sofì I due, che si erano conosciuti all'interno della casa del grande fratello, hanno avuto una relazione appassionata ma anche molto tormentata E ora, da più parti, si maligna che sia stata tutta colpa di Basciano Da incorreggibile sciupa femmine, il genovese avrebbe tradito Sofì, spezzandole il cuore Con gli amici, sembra che lui abbia negato Intanto però c'è un video che inchioda l'ex Vipone, a pochi giorni dalla rottura con Sofì Alessandro si gode la vita da singola e si mostra già in compagnia di un'altra donna Di chi si tratta? Non ci sono dubbi che per l'ex concorrente del GF Vip sia una donna molto importante La storia tra Alessandro Basciano e Sofì Ecodegoni è finita nuovamente e lui ha già un'altra ragazza? Parlare di ragazza è improprio, dato che nel video il 35enne si mostra insieme alla nonna Ecco dunque la donna che sta consolando il cuore dell'ex Vipone Alessandro Basciano e Sofì Alessandro Basciano e Sofì Ecodegoni è finita nuovamente e lui ha già un'altra donna Alessandro Basciano e Sofì Ecodegoni è finita nuovamente e lui ha già un'altra donna